Milano La vita è già abbastanza complicata. Fiat la rende un po' più facile perché ti offre solo idee semplici, divertenti che migliorano la vita di tutti i giorni. Per esempio, fino al 31 marzo puoi avere la tua 500 con clima automatico e filtro antipolline inclusi nel prezzo. Grazie a tutti.